Impressionante video realizzato in Russia durante il violento tornado che si è abbattuto nella regione del Bashkort-Ostan con raffiche di vento addirittura superiori ai 250 km orari. Si tratta di una zona pianeggiante nei pressi dei monti Urali, area piuttosto esposta e dunque facile a forti contrasti. La popolazione è stata accolta letteralmente di sorpresa e non ha avuto molto tempo per difendersi. In questa clip proprio nel momento in cui un uomo sta uscendo dal garage con la sua auto ecco che arriva il tornado. L'uomo tenta di rientrare nel box che però viene spazzato via in un batter d'occhio mentre lui fa marcia indietro come si vede in queste uniche riprese video.